Ciao ragazzi, sono Eppi! Benvenuti su Mega Wow! Oggi ho mandato un pacco a Cinzia con un gioco nuovo in cui bisogna fare una cosa che mi piace un sacco! E fa scoppiare i palloncini! Vediamo se Cinzia e Aurora sono bravi come me a far casino! Ehi, ciao a tutti! Io sono Cinzia e qui chi c'è? Aurora! Aurora! Ciao Eppi! Ciao Eppi! Ma cosa abbiamo qui? I palloncini! Per fare felice Eppi perché a lui piacciono tanti palloncini che scoppiano! Questo gioco è fatto apposta per lui! Abbiamo! Come fanno? A me mi piace di più questo! Quello rosso? Allora tu ti prendi quello rosso! Anche a Eppi piace il rosso, vero Eppi? E tu quale ti piace? Va bene anche il blu per me! Sono due palloncini con l'armatura! Ma cosa c'è scritto? C'è scritto Balloon Boat Battle! Adesso andremo a fare una lotta contro Aurora! Andiamo a spacchettare il pacco e a montare i nostri due palloncini con l'armatura! E così vi spiego un po' poi le regole per vincere! Spacchettiamo! Tira tu qualcosa! Tiriamo qualcos'altro! Guarda! A me mi piace il rosso! Mettiamo gli occhi ad Aurora! Guarda! Questa è arrabbiata! Arrabbiatissima! Oh mio Dio! Siete il mondo! Questo non ci serve! Balloncini! Balloncini! Vedi Balloncini! Ah! Balloncini! Sì! Basta! Ah no! C'è qualcos'altro! Questo si mette in testa! Così! Guarda! Sono la reggina! E io sono la principessa! Questo non ci serve più e questo non ci serve più! Andiamo a montare tutte queste cose! Questa che sicuramente si fa così! Si mette qui! Queste sono le braccia che hanno qui! Penso sia tipo carta vetrata! E questo lo sai che serve? A far scoppiare il palloncino! Andiamo a montare tutto! Ok! Uno messo! Te lo faccio io! Ehi! Quello non è mio! Ah è buo! Certo! Non è tuo! Ciao! Oh! E stiamo indormentando i piedi! Che cosa? Stiamo indormentando sedute! Ecco! La corona di Aurora! La corona di Aurora è quella mia! Adesso vai! Prendo questa! Mette qui! Gli occhi! Cattivissimi! Ora rosso! Rosso! Oh! Tira giù! Siete da Aurora! Ora hai gli occhi pure arrabbiati! Dobbiamo mettere le braccia! Tadam! Uno! E due! Ci serve questa base di qui! Dobbiamo mettere il palloncino qui dentro! E gonfiarlo! Ok così è ben incastrato! E dopodiché vado a chiuderlo direttamente qui! Senza fare il nodo! Vedete? Così! Il mio è pronto! Lo metto qui nella postazione! Oh mio dio è bellissimo! Gini! Non ce la fai Auri! E' tutto... E' tutto bagnato! Fatto! E' con macchia! Ah ah! Adesso si vanno a sfidare! Arrivata a questo punto! Dobbiamo spiegare che adesso loro due si andranno a sfidare! Ma cosa vinciamo? Faremo tre battaglie! Dobbiamo far scoppiare tre palloncini! O comunque due su tre per vincere la sfida e vincere questo! Che c'è? E cos'è? Questa è... La coppa! La coppa! Con tanti dolci dentro! No! Se vinci avrai i tuoi dolcini! Tin tin! Iniziamo la battaglia! Siete pronti? Via! Vai! No! Sei già uscita fuori strada! 3, 2, 1, via! Aspetta che succede? Che succede? Fermo, fermo! Hai perso l'armatura! Aspetta che lo gonfio un pochino perché si è sconfiato! VINTA! No! Non vale! Così lo stavo gonfiando io! Immagino Happy si sia divertito appena è scoppiato quel palloncino! Ti combattio! Mi combatti? Allora il mio palloncino è pronto! Via! Finalmente! Happy ti è piaciuto? Sì! Vanti 5! Dai ti do la rivincita, va bene? Vedremo chi vincerà! Ta-na-na! 3! Ah! Mi ha attaccato! Aiuto! Mi attacca! Via! Ah! Aurora mi ha fatto scoppiare il palloncino! Se vinci la prossima hai vinto la coppa! Il mio palloncino verde è pronto! Tintin! Vai! Non si scoppia! Non si scoppia! Vai! Devo vincere quelle caramelle! Sono io! Tu? No, io! No, io! Chi è più cattiva? Chi è più cattiva? Chi è più cattiva? Ha vinto Aurora! Brava, brava, brava! Mi congratulo con te e il tuo giocatore! E quindi ti meriti... La coppa! Ma ne dai uno oppure il tuo amichetto qui? Va bene ragazzi, il video è finito! Aurora si gode le sue caramelle buonissime! Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, commentate e iscrivetevi al canale di Mega Wow! 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 Ciao ragazzi! Ciao Happy! Un bacione! Non riesco a resistere! Devo farmi esplodere tutti! Fortissimi quei robot palloncini! Due delle mie cose preferite! Palloncini, robot... Adesso vado che devo gonfiare altri palloncini! Ci vediamo! Ciao! Quante volte ho detto palloncini? Buoninen, ho detto qui... o la mia voca... Oh! 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 Eh! Eee! Take me, oh! 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 Autore dei sorrisi